Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Anna e oggi siamo su Geometry Dash World Ci avevo già provato in realtà a giocarlo, però poi dopo l'avevo disinstallato e ce l'ho disinstallato Comunque, cioè io a Geometry Dash ci ho già giocato come gioco, insomma Geometry Dash, Geometry Dash, quello lì senza i livelli, cioè i livelli però non così come i mondi Cioè ci avevo già giocato ma non sono mai arrivata molto lontano, nel senso non è che sono una grande, sono molto brava a giocare questo gioco Questo è se non parlo, ma dai era lì la fine, era lì la fine, come hai fatto sbagliare alla fine? Sì, è finito, primo livello finito Ok, livello 2 Best mode Perfetto, sono bravissima Cioè in realtà avevo giocato a questo gioco e ho arrivato a questo livello e poi non sono più andata avanti perché non avevo capito a farlo No, è all'89% dai, sei malefico Cioè in realtà sei malefico, ma devi farli vincere No, sono stupida io questa volta Sì, l'ho finito Sono felice di questo Ok, la pubblicità che io sempre Ok, livello 3 Mascina Macchina Non so se mascina o macchina, non so come si dice Vabbè, non dà fastidio questa cosa Dà fastidio così, vabbè, è tutto strano, tutto bianco Dà fastidio un po' gli occhi Non ci arrivo Non vale questa cosa, non ci arrivo Sì, però anch'io però Gli butto Ah però io ho il dito che si muove da solo Ma però non si dice neanche Come facevo a passarci Come facevo a passarci Dai mammo Penso che ho messo questa cosa che non si vede più Dai, bibiribi Non ci arrivo a ci Non ci arrivo a farci No Sì, ve l'ho finito Ok Ok Per questo video può essere tutto Nel prossimo episodio finiremo questo mondo E magari se riusciamo cominciamo anche questo Poi questo gioco non dovrà neanche tanto Perché si devono aggiungere altri mondi Però Quindi per ora passare a fine anche qui Che sennò dopo magari faccio il video Faccio il video, lo finisco tutto Non è molto Mi piace più fare più video Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciato un like Commentate, condividete Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao 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 Grazie.